e il gruppo delle mamme sono cammela mamma di santina buongiorno allora belle cose da portare per la recita di quest'anno a me mi ha capitano i doni del re maggio ora io c'ho loro da portare vincenzo e la merra per loro c'è una bella onlana da quando mamma ritaglio ci faccio fare un fecorone al re maggio poi vincenzo già ci disse a mio cucino vincenzo il fecorone dice vengo io faccio vincenzo quindi siamo a posto per la mia mamma è imbazzuta totalmente a cercare adesso a sinistra che il mio marito mi disse come fare scuro perché fino a ieri a tardo l'ho fatto girare ora a un certo punto mi disse muovete a casa catacciovo e me l'ha trovata lui mamma veramente questa qua si chiama mirra moretti io penso che va bene ma voi che dite vado a sapere grazie è il mio buono placido stanno ci pensi l'anno scorso con due bui e due sinelli sopra il fiorino ma non lo fa mai vita grazie a tutti